Occupiamoci ora della crisi dell'ARPA, la società di trasporto pubblico regionale alle prese con una presente situazione debitoria. Dopo l'allarme lanciato già un anno fa, la CGL insiste sull'azzeramento dei vertici aziendali. Mariano D'Amico. Ci sarà sicuramente la necessità di predisporre un piano di risanamento che passi attraverso un piano industriale e questo lo sanno bene anche i candidati alla presidenza della regione Abruzzo e noi crediamo che questo piano industriale non possa essere predisposto da chi è stato l'artefice di portare l'ARPA in queste condizioni. Una delle più urgenti e spinose questioni che il prossimo governatore della regione Abruzzo sarà chiamato ad affrontare è quella dell'ARPA, la più importante azienda del trasporto pubblico regionale, gravata da una situazione debitoria di circa 40 milioni di euro e da bilanci che negli ultimi anni sono stati chiusi in rosso. Il presidente Cirulli ha ereditato un'azienda sostanzialmente nel 2009 che poteva vantare due bilanci precedenti chiusi in attivo. Nei cinque anni successivi il presidente dell'ARPA, l'intero consiglio di amministrazione del gruppo dirigente, è riuscito a fare bingo, ovvero a chiudere tutti e cinque gli anni di propria competenza con forti perdite e con un grave indebitamento. I sindacati chiedono da mesi l'azzeramento dei vertici di ARPA a cui attribuiscono il suo tracollo e sollecitano il risanamento dell'azienda attraverso il varo di un serio piano industriale. In ballo ci sono circa mille posti di lavoro. È la sorte dei mille dipendenti appesa appunto a questo piano di rizianamento. Noi a tale proposito abbiamo deciso di predisporre una giornata di confronto con i candidati alla presidenza della regione Abruzzo, una giornata che terremo domenica prossima a Pescara perché abbiamo intenzione di sollecitare i candidati alla presidenza della regione Abruzzo proprio sulla grave situazione dell'ARPA, ma più in generale sulle tante problematiche che riguardano i trasporti.